1. Spegni il dispositivo premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi, e sposta il pallino bianco verso il basso, sopra la scritta Spegni. 2. Premi e tieni premuti contemporaneamente i tasti volume giù e il tasto di accensione. 3. Non appena il logo può appare sullo schermo, rilascia i tasti. Verrà ora caricata la modalità di ricoveri. 4. Scegli la lingua inglese cliccandoci sopra. 5. Nel passaggio successivo, clicca su Wipe Data. 6. Inserisci il codice di verifica mostrato a schermo. 7. Clicca su Format Data e poi su Format. 7. Attendi il completamento dell'operazione. 8. Clicca su OK. 8. Il Reno 2 è ora resettato alle impostazioni di fabbrica. 9. Aspettiamo il primo avvio di Android 10. Che è sempre più lento dell'avvio normale. 9. Configuriamo ora lingua, connessione Wi-Fi, profilo Gmail e le altre impostazioni personali. 10. Questi sono i temi disponibili. Vi consiglio quello chiamato ciottolo. Diverso dai soliti. 11. Ecco la schermata di benvenuto della Coloro S7. 11. Possiamo notare un restyling grafico generale, rispetto alla Coloro S6. 11. Ti consiglio di attivare la modalità di risparmio energetico. 12. Attiva anche la modalità scura, che oltre a rendere i menu neri e consumare meno batteria, permette anche di forzare lo sfondo nero nelle app di terze parti. 12. Attiva anche la modalità scura, che oltre a rendere i menu neri e consumare meno batteria, permette anche la modalità scura, permette anche la modalità scura, permette anche la modalità scura. 12. E' anche la modalità scura. 12. Namun te vendete i menu neri, mett成vi il sotto.